Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 3 giugno, benvenuti a Mattino Insieme. Al via oggi il Festival dell'Economia ce ne occuperemo abbondantemente, diffusamente in questa puntata di Mattino Insieme. Ci occuperemo proprio di capire quali sono i temi, quali sono gli ospiti, come la città di Trento si è trasformata per la Kermes Arancione. Tutto questo nel corso della nostra ora, ora e mezza disposizione. Ma come tutti i giovedì mattina c'è ospite qui in studio con noi, questa mattina Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina. Buongiorno Augusto. Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a te gli spettatori. Partiamo proprio con la prima pagina, il titolo di apertura che avete scelto questa mattina per il settimanale di Ocesano, che noi in anteprima, sempre giovedì mattina, commentiamo insieme. Ecco qui, c'era una svolta, è il titolo, ricordiamo che oggi è la giornata mondiale della bicicletta, quindi parlate proprio di questo, parlate di transizione ecologica e parlate di piste ciclabili. La svolta del titolo è quella che si riferisce a quella che i ciclisti sono oggi obbligati a percorrere, andando in direzione di Riva del Garda da Trento, verso la Valle dei Laghi, Riva del Garda, il Lago di Garda. Sono costretti a svoltare appunto all'altezza di Montevideo per fare il giro verso Sardania, Camponzine e Sopramonte. Un giro obbligato per la strettoia, il passaggio impedito del Bus de Vela, che rappresenta oggi un ostacolo a quello che potrebbe essere uno sviluppo interessante, anche in chiave turistica, in tempi di ripresa economica e del turismo, una strozzatura che andiamo a vedere come si potrebbe in qualche modo superare la svolta auspicata, anche quella appunto di un investimento che sarebbe cospicuo, ma che potrebbe forse valere la pena effettuare per portare un maggior numero di turisti verso il Lago di Garda, tra la sua bicicletta, che come ci hanno insegnato questi mesi della pandemia è un mezzo che ha riscoperto un nuovo boom, anche se è sempre stato un mezzo molto sviluppato. Ce ne parla il presidente della circoscrizione Bondone, Alex Benetti, che presenta appunto questo possibile progetto. Ci sono delle ipotesi già dal 2014 per un superamento della strozzatura del Bus de Vela e c'è anche il testimonial, il campione di ciclismo Maurizio Fondriest, che è il testimonial della campagna Io rispetto il ciclista, che parla appunto della bicicletta anche come mezzo per una mobilità. Ricordiamo che il Bus de Vela collega anche Cadine e Sopramonte, due soborghi molto popolosi, molto abitati, e potrebbe essere quella di una possibilità di percorrere in bici il Bus de Vela anche per una mobilità alternativa. Ci sarebbero sicuramente molti cittadini interessati a questo. Sappiamo che chiaramente anche il cicloturismo è sempre più diffuso ed è sempre più scelto proprio sia dai turisti quelli che vengono dalle zone limitrofe ma anche ovviamente anche dai turisti esteri. Proprio in questa ottica un'analisi dei costi e dei benefici potrebbe forse meritare un approfondimento, in qualche modo ci facciamo portavoce come settimanale anche di questo auspicio del Presidente della Circoscrizione Bondone e vedremo se ci sarà qualche sviluppo, qualche possibilità. Il collegamento Trento-Pergene ad esempio è stato finanziato, questo ulteriore collegamento sicuramente avrebbe una grande appetibilità proprio nella direzione che dicevi tu Marco del cicloturismo che è in forte espansione. Lo ricordavo prima io in apertura, oggi è il giorno del Festival dell'Economia che riparte e dato molto importante riparte in presenza dopo l'edizione dell'anno scorso quindi al via la Kermes arancione, il nostro studio è già solitamente arancione quindi non abbiamo dovuto colorarlo oggi come invece avviene alla città di Trento in questi giorni. Anche voi ovviamente su Vita Trentina ve ne occupate e anche l'editoriale del direttore Diego Andreatta si occupa proprio anche del tema che sarà sviluppato quest'anno, ne parleremo poi con Tito Boeri nel corso della trasmissione. Sì, il Festival si apre oggi, proprio venendo qua in studio ascoltiamo in radio il Presidente Fugatti ai microfoni di Radio 1 che presentava questo appuntamento che dal 3 al 6 giugno anima la città di Trento. il nostro direttore se ne occupa nell'editoriale per rimarcare anche, riprendere le parole del Governatore della Banca d'Italia Vincenzo Visco che ha sottolineato nella sua relazione annuale come lo Stato non si ponga in concorrenza con il mercato ma in qualche modo Stato e mercato sono due realtà, due soggetti complementari. quello che è il compito dello Stato è fornire servizi efficienti e intervenire dove, come abbiamo visto in questi mesi, ci sia necessità di un maggiore impegno come appunto è stato nei mesi della pandemia dell'emergenza sanitaria. Un forte impulso può venire anche dal terzo settore sempre il nostro direttore se ne occupa in un servizio, in un'intervista con il Professor Carlo Borzaga e proprio dal terzo settore la capacità innovativa anche di questo privato sociale come viene anche chiamato, si è dedicato un appuntamento che si terrà venerdì al Teatro Sociale venerdì 4 giugno alle 14.30 moderato dal nostro direttore Diego Andreatta proprio su questo tema della importanza del terzo settore, della cooperazione sociale per il settore economico anche con una capacità innovativa forte come ha fatto vedere in questi mesi. L'Arcivescovo Tisi è stato a San Zeno e ha voluto spiegare un po' le scelte della CEI in particolare che cos'è che ha detto Tisi? Raccontaci un po' Augusto. Uno degli appuntamenti importanti che attendono la Chiesa Cattolica Italiana è il Sinodo che è stato presentato all'ultima Assemblea dei Vescovi Italiani e Monsignor Tisi nell'appuntamento tradizionale della ricorrenza dei Santi Martiri di San Zeno Sisinio Martirio Alessandro che nel 397 furono appunto martirizzati in Valle di Non provenienti dall'attuale Turchia, dalla regione dell'attuale Turchia ha ricordato questo appuntamento che richiama un ulteriore impegno alla Chiesa Cattolica in tutte le sue espressioni dai fedeli fino alle parrocchie e le varie realtà ecclesiali e ha richiamato appunto l'importanza di questo appuntamento che sarà in qualche modo uno stimolo forte non sarà un appuntamento per stendere qualche nuovo documento ma invece un appuntamento che porrà nuove inquietudini a una Chiesa che il nostro Vescovo vuole sempre più proiettata all'esterno attenta appunto all'esterno e inquieta, non ferma, non mai appagata. Torniamo alla prima pagina del taglio alto di Vita Trentina di questa settimana Le buone pratiche, avete titolato e già si guarda infatti alla settimana sociale verso la 49esima settimana sociale che se non sbaglio sarà ad ottobre, no? Sì, è un appuntamento della Chiesa Cattolica italiana che si svolge non tutti gli anni ma periodicamente, il prossimo appuntamento sarà a fine di ottobre a Taranto una città scelta proprio per la presenza dell'ex ILVA uno stabilimento industriale che pone con forza il problema della conciliazione tra ambiente, occupazione, lavoro e proprio ai temi dell'ambiente e del lavoro si dedicherà questa settimana sociale che è un appuntamento voluto dalla Chiesa proprio per leggere alla luce del Vangelo i fatti sociali e in questo caso lo spunto forte è nel sesto anno dalla sua pubblicazione l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco un'enciclica che abbiamo riletto in queste settimane proprio in occasione di questo sesto anniversario della pubblicazione e l'appuntamento di Taranto viene preparato nelle diocesi anche attraverso un questionario che ci illustra nella pagina appunto che presentiamo sul giornale viene illustrato da Francesco della Giacomo che è un referente della commissione diocesana che si occupa di questi temi Vi occupate anche dell'attività in presenza dell'attività in presenza che ritorna per l'azione cattolica Sì, l'azione cattolica non è solo quella della canzone di Zucchero che tutti conosciamo è anche un po' irridente ma è una realtà che ha saputo anche in questi mesi mantenere il contatto con i giovani e i ragazzi in questo servizio che prosegue il nostro cammino attraverso le realtà giovanili ecclesiali del territorio trentino appunto parliamo di azione cattolica l'azione cattolica ragazzi che numericamente non è una realtà molto consistente ma è vivace e viene presentata attraverso le parole dei coordinatori provinciali e poi l'azione cattolica giovani, giovani adulti dai 18 ai 35 anni che anche svolgono delle attività e vengono presentate in questa pagina Come sempre Vita Trentina ha molta attenzione per le valli per quello che succede, che si muove appunto nelle valli trentine questa settimana che cosa ci segnali in particolare Augusto? Ma in particolare ho un appuntamento che verrà ricordato con uno spettacolo che si svolgerà il 12 giugno alla sala di Ravina uno spettacolo che parla dell'arrivo, della storia del basket in provincia di Trento A Trento il 12 giugno del 1921 si svolse quella che viene ricordata come la prima partita di basket c'era stato un appuntamento nazionale sportivo e probabilmente da questa presenza qualcuno introdusse anche nella nostra provincia questo gioco che allora era pressoché sconosciuto Mauro Corradini che ha curato un libro su questo argomento e ne ha tratto anche uno spettacolo che appunto sarà presentato il 12 giugno a Ravina Poi c'è anche un altro articolo che viene trattato che appunto troviamo nelle pagine interne del settimanale di Ocesano si occupa di economia e di fusioni di casse rurali lo sappiamo è un tema molto caldo perché soprattutto in questi ultimi mesi si è assistito veramente alla fusione di molte realtà qui parlate in particolare di Rovereto e dell'Alto Garda Sì, la settimana scorsa ci sono state le assemblee delle due casse rurali che sono due realtà, quella della cassa rurale Alto Garda e la cassa rurale di Rovereto che con i loro numeri imponenti dicono appunto l'importanza per l'economia provinciale di queste due realtà c'è stata queste assemblee che hanno decretato la fusione sono sempre passaggi molto delicati perché si intrecciano questioni se vogliamo anche di campanile o anche così di cuore che c'è anche di queste realtà che appunto sono nate a servizio di un territorio specifico ma che oggi per stare al passo coi tempi devono affrontare delle economie di scale quindi queste fusioni sono passaggi delicati però anche fanno vedere la vivacità di questo movimento cooperativo in questo caso la cooperazione del settore del credito che comunque sa sempre esprimere anche una propria democrazia e questo ci sembra anche una questione meritevole di essere sottolineata prima di chiudere Augusto abbiamo ancora qualche secondo c'è un altro articolo che così ha suscitato particolare interesse che mi ha suscitato particolare interesse che è quello sulle voci dei piccoli popoli sì è un articolo curato dal nostro specialista Roberto Moranduzzo quando si parla di popoli del mondo che sono appunto stati spesso fatti conoscere meglio anche proprio dai nostri missionari e in questo caso parliamo nell'articolo di un popolo africano e un popolo dell'America Latina sono queste popolazioni indigene che anche in occasione del sinodo per l'Amazzonia sono state valorizzate proprio perché portatrici di valori e di culture che hanno ancora molto da dirci io ringrazio molto Augusto Goio giornalista di Vita Trentina che ci ha aiutato proprio in questa panoramica che ci ha aiutato a sfogliare le pagine interne la prima pagina del settimanale diocesano che è in edicola questa mattina grazie Augusto grazie a voi per l'ospitalità grazie a voi grazie a voi grazie a voi